Siamo a Opera in provincia di Milano nella nuova location dedicata a un'apertura di U2 Supermercato con una metratura mediamente superiore perché siamo quasi a 1800 metri quadri di vendita. Una delle caratteristiche distintive di questo punto vendita è la vendita di pane solo pane fresco grazie alla collaborazione alla liaison con la nostra casa madre Iper la Grande I che sforna pane quotidianamente in questo caso il pane arriva da Rozzano abbiamo attivato questa collaborazione su pane e pasticceria fresca con una consegna due volte al giorno per garantire il massimo della freschezza. Siamo nell'area cantina che come sempre è distribuita sui lati per garantire la facilità di spesa. La differenza in questa location è la caratterizzazione dell'area dedicata ai vini di pregio dove nell'area centrale abbiamo dedicato non solo la distinzione vini bianchi e vini rossi ma un'area dedicata al pronto da consumare quindi in fresco così come un'area ad hoc per i vini Magnum. Siamo nell'area dedicata ai fiori una novità per questa nuova apertura dedicata a chi ama il verde i fiori e le piante grazie alla collaborazione con Iper la Grande I che ci ha fornito il know-how e le competenze per portare allestire al meglio e aiutare i nostri colleghi in quest'area verde per noi di grande valore e distintiva per questa apertura. Grazie a tutti.